Per rispondere a questa domanda mi lascio condurre e guidare dal Grande Catechismo, dal numero 627 e il numero 630. La morte di Cristo è stata una vera morte, in quanto ha messo fine alla sua esistenza umana terrena. Ma a causa dell'unione che la persona del figlio ha mantenuto con il suo corpo, non si è trattato di uno spogliamento mortale come gli altri, perché non era possibile che la morte lo tenesse in suo potere. E perciò la virtù divina ha preservato il corpo di Cristo dalla corruzione. Di Cristo si può dire contemporaneamente fu eliminato dalla terra dei viventi e nello stesso tempo il mio corpo riposa al sicuro perché non abbandonerai la mia vita nel sepolcro ne lascerai che il tuo santo veda la corruzione. Atti degli Apostoli, capitolo secondo. Durante la permanenza di Cristo nella tomba la sua persona divina ha continuato ad assumere sia la sua anima che il suo corpo separati però tra di loro dalla morte. è per questo che il corpo di Cristo morto non ha subito la corruzione. Atti degli Apostoli, capitolo 13. Grazie. Grazie.